Eccoci, Rovazzi, Rovazzi, bravo Rovazzi, grazie, bravo, ma è successo? Ora è il momento di fare un altro, ma è obbligato, il contratto lo deve fare, se lei non lo fa, può prendere via la vita, Rovazzi, lei è nostro per i prossimi vent'anni, però io, Rovazzi, la gente come me la conosco, sa, piace ai bambini, piace alle mamme, e quindi no parolacce, per questo motivo nella struttura l'abbiamo affiancato un professionista della censura, è vero, Rico, chi è, Rico, ma noi sì, ci pensano a lui, a lei, e ora vada, Rovazzi, vada, vada, crei, crei, credo adesso è stato film troppo chiaro, rivederci, ma io non ho capito, in definitiva cosa, non ho capito, Rovazzi, una cosa che piace ai giovani, quelle cose che stanno nel computer, sui telefonini, Snapchat, Instagram, vada Rovazzi, vada, vada, cosa è il Instagram, è proprio i 12-7, Rovazzi, 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 Instagram, è molto interessante, senti in casa, salvi al mare, salvi al ristorante, i giorni dei problemi, è l'età proprio interessante, salva resta, resti di questa giornata pesante, i nostri nuovi metri dove cambiamo le patte, dobbiamo fare impasta fuori del bomba gigante, où si te ossicano diremo, che z' Stockholm si treffa, un riz in casa non è l'età proprio il mondo, a casa non è l'età proprio il mondo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.